Sono convinto che Marsiglio, che è stato un ottimo governatore, verrà favorito, verrà premiato dai suoi cittadini e quindi tornerà ad essere eletto governatore. Se leggiamo che l'unica cosa di cui si parla è il fatto che abiti a Roma, anch'io abito a Varese e anch'io a una distanza più o meno pari a quella che Marsiglio ha da Roma all'Aquila, quindi sono delle cose che dimostrano la pochezza degli avversari.